Allora, buonasera a tutte e a tutti. Vi ringraziamo di essere intervenuti così numerosi sia su Zoom che su YouTube. Penso che anche di là sarete in tanti. Questa sera introduciamo una nuova sezione del nostro cammino sulla parola e anche cammino di fede adulta sui Vangeli apocrifi e prendiamo in esame in questo incontro almeno una prima lettura e presentazione del Vangelo di Tommaso che tra i Vangeli apocrifi è certamente uno dei più interessanti. Come relatore abbiamo Don Paolo squizzato e quindi lascio subito a lui la parola. Stasera andiamo a toccare un tema affascinante, un tema molto molto profondo secondo me, trascurato per troppo tempo, che è quello del Vangelo apocrifo di Tommaso, come ha accennato Stefano. Nel tempo che abbiamo, che non è molto, è impensabile affrontare la tematica dei Vangeli apocrifi, dell'Evangelio di Tommaso e un commento del Vangelo di Tommaso. Quindi bisogna fare delle scelte, ho pensato di fare una scelta, quindi non parlerò dei Vangeli apocrifi perché ci impiegheremo una serata se bastasse. Farò un accenno all'Evangelio di Tommaso e impiegherei il tempo invece per commentare non i 114 loghia di cui è costituito il Vangelo, ma alcuni, penso 7-8 loghia, vorrei commentarli. Ho fatto una scelta tra i 114, ovviamente. Ovviamente starà a voi poi andare ad approfondire, andare a studiare questo mondo degli apocrifi, dei Vangeli gnostici e in particolare quello di Tommaso. Ormai la letteratura è esterminata, si stanno moltiplicando proprio i testi e quegli studi sugli apocrifi. Ho detto Vangelo gnostico perché il Vangelo di Tommaso è ritenuto dalla maggior parte dei critici, degli studiosi, un Vangelo gnostico, anche se qualcuno non è d'accordo definirlo gnostico. Gnostico, scusate, non la gnostico, gnostico. E quindi sarebbe interessante specificare anche cosa si intende per gnostico, ma non possiamo farlo stasera. Quindi non ci fermeremo sugli apocrifi, sull'ognosticismo, questo movimento di pensiero impressionante, incredibile, che si sviluppò soprattutto in epoca cristiana, ma non si può fare tutto. Magari con Stefano, magari con l'associazione ci prendiamo l'impegno di affrontare questo mondo in altri momenti. Vorrei fare nascere un po' il gusto. Io quando ho scoperto questo mondo, quando ho cominciato a studiarlo, veramente l'ho trovato affascinante, bellissimo. E spero che qualcosa passi anche questa sera. Partirei da una cartina. Questa cartina perché ci interessa notare quella freccia a metà. Qui siamo in Egitto, quello è l'Egitto. C'è una località che sorge proprio sul fiume Nilo, questo Nag Hammadi, perché è una località importante. Cosa successe a Nag Hammadi a 450 chilometri dal Cairo nel dicembre del 1945? Avvenne una scoperta archeologica straordinaria. Qualcuno la ritiene addirittura come importanza archeologica superiore alla scoperta dell'anno successivo del 1946 dei rotoli del Mar Morto. Quindi pensate che scoperta fu quella di Nag Hammadi. Cosa trovarono? Un gruppo di beduini, perché fu un gruppo di beduini, scavarono un campo e trovarono una giara di terracotta contenente tredici codici antichi riportati su papiro. Tredici codici di papiro. Ora, questa giara era contenuta nel terreno di un monastero, un monastero cenobita, fondato da Pacomio nel IV secolo d.C. I beduini presero questa giara, presero questi rotoli e da lì cominciarono, come successe già per quelli del Mar Morto, una lunga vicissitudine di questi rotoli. Addirittura per un momento si pensò che fossero andati perduti, perché non si trovavano più. Fortunatamente poi i rotoli sono stati ritrovati, studiati, consegnati alle autorità e fortunatamente oggi li abbiamo. Cosa si tratta? Cosa c'è riportato in questi codici su papiro? La maggior parte sono scritti gnostici, gnostici cristiani, ma includono anche altre opere, ad esempio un testo chiamato Corpus Hermeticum, attribuito a Ermete Trismegisto e addirittura un brano della Repubblica di Platone. Ora, cosa ci fece? Perché sono stati sepolti e fortunatamente conservati questi papiri? Perché essendo per la maggior parte testi gnostici c'era paura che andassero distrutti. Perché nel 367 il vescovo di Alessandria d'Egitto ordina che tutti i testi di Vangeli, di altri testi della scrittura, andassero distrutti se non erano testi che pian piano stavano entrando nel canone. Adesso qui sarebbe da aprire un mondo perché sono stati esclusi gli apocrifi e sono stati conservati soltanto i Vangeli canonici, le lettere di Paolo. Ecco, sarebbe un tema affascinante, ma non possiamo affrontarlo stasera ovviamente. Però nel IV secolo circola questo editto, diciamo, di Alessandria, del vescovo Atanasio di Alessandria, dicendo «Vadano distrutti tutti i testi che non rientrano nel canone che si stava formando». Teniamo conto che il canone è stato definito completamente molto più tardi. Siamo col Concilio di Trento addirittura, si è chiuso il canone. Però già allora si stava formando, ok? Quindi, chiudiamo questa parentesi. I testi sono, quelli scoperti in Egitto, sono scritti in copto antico, anche se gli studiosi ritengono oggi che gli originali, perché sono delle coppie, gli originali siano stati scritti in greco. Ora, tra tutti questi, pensate che in questi codici, 13 codici, contengono circa 51 testi. Quindi, ecco perché è stata una scoperta importante. Ecco, di queste, pensate, ho detto, scoperta importante perché 13 codici contenenti 51 testi. Uno solo di questi testi è stato conservato, diciamo, nella sua totalità. Fortunatamente non è andato corrotto, e che è proprio il Vangelo gnostico di Tommaso. Quello che noi andremo a commentare in parte questa sera. Ora, gli altri sono testi non completamente, sono dei frammenti, sono delle, abbiamo detto, delle opere anche extra bibliche o comunque non che non si rifanno a testi sacri, appunto Platone e il resto. La lingua di questo papiro, di questi papiri, erano iscritti in copto, ho detto. Questa scoperta è stata fondamentale perché nel 1898, vi lascio questa indicazione perché altrimenti non rischiamo di perderci dei pezzi, nel 1898, sempre in Egitto, fu fatta un'altra straordinaria scoperta. Siamo un pochino più a nord dell'Egitto, precisamente a Ossirinco, furono trovati centinaia e centinaia di frammenti di testi antichissimi, di testi antichissimi. C'erano, in questa scoperta dell'898, c'erano dei frammenti che non si capivano, si capiva che erano riferimento ai Vangeli, però non si capivano qual era il testo originario. Allora, grazie alla scoperta del Novecento, di Naga Hammadi, si è capito che quei testi dell'Ottocento erano parte del Vangelo di Tommaso. Quindi, e questo è stato fatto un esame al Carbonio e si è visto che quei papiri di Ossirinco erano databili più intorno al Duecento, leggermente prima, leggermente dopo. Quindi, molto prima di quelli scoperti in lingua copta, e tra l'altro in lingua greca, in lingua greca. Ecco, nella Chiesa, ecco la cosa interessante è che nella Chiesa Primitiva ci dicono queste scoperte, circolavano dei, delle raccolte di detti di Gesù. Ora, questo è importante perché intorno al Duecento, ma anche prima, gli studiosi parlano addirittura del secondo secolo, circolavano delle raccolti di Gesù, dei detti di Gesù. Quello più famoso che ha masticato un po' la Bibbia, il Vangelo lo sa, è il codice detto Q, la fonte Q, la fonte Q, che significa semplicemente Kelle, la Q è la Q di Kelle in tedesco, che significa appunto fonte. Allora, qualche studioso dice che è arrivato a qualcuno addirittura apotizzare che la famosa fonte Q fosse proprio il Vangelo di Tommaso. Non è appoggiato ormai più da nessuno, però significa che prima dei Vangeli quelli che noi conosciamo canonici, che si sono formati molto lentamente, questi questi nostri Vangeli canonici si rifacessero a delle fonti scritte nelle varie comunità e queste fonti erano semplicemente dei Logia, cioè dei Logia vuol dire Logion, al singolare Logion, al parolare Logia, significa semplicemente detto, sentenza, quindi circolavano delle sentenze, circolavano dei detti di Gesù prima oralmente e poi raccolti in appunto in codici, in fonti, in raccolte, ecco, a cui hanno attinto i Sinottici e i Vangeli poi Apocriti che sono nati successivamente. Dico sempre perché ha masticato un po' la storia dei Vangeli, se noi prendiamo Matteo e Luca, i due Sinottici, noi sappiamo che Matteo e Luca non sono altro che l'ampliamento del Vangelo di Marco, che è il più antico. però leggendo Matteo e Luca vediamo che c'è molto materiale di Marco ma c'è anche del materiale che non è marciano, che non è di Marco. Allora la questione è dove ha preso il materiale Luca e Matteo se non l'hanno preso da Marco? La famosa fonte Q, la famosa fonte Q è che è questa raccolta raccolta è un'ipotesi vivamente questa una raccolta indipendente. Poi è anche vero che Luca e Matteo hanno a loro volta del materiale assolutamente proprio, pensiamo la faragua del buon samaritano, c'è la solo Luca, oppure il giudizio universale, c'è la soltanto Matteo 25, ecco, però questi due Vangeli hanno attinto a una fonte che la fonte Q, la fonte, la fonte, la fonte. Ecco, qualcuno avanza l'ipotesi che tra le varie fonti ci fosse anche il materiale del Vangelo di Tommaso e quindi il Vangelo di Tommaso è veramente importante perché noi ci accorgeremo stasera che risente molto, c'è molto dei Vangeli sinottici, dei Vangeli che noi conosciamo. Allora dico è affascinante approfondire, è affascinante entrare in questo mondo. Allora noi adesso leggeremo dei Logia di questi detti antichissimi noi abbiamo ovviamente vi propongo una traduzione in italiano del Copto però dobbiamo pensare che sono stati sicuramente grazie alla scoperta dell'Ottocento scritti precedentemente in greco. Qualcuno addirittura avanza l'ipotesi che l'originale cioè prima del greco siano stati composti in aramaico la lingua di Gesù o in siriaco. Perché questo? Perché il Vangelo di Tommaso si serve spesso di semitismi cioè di forme espressive tipiche dell'ambiente gesuano di Gesù quindi noi andiamo ad attingere con il Vangelo di Tommaso ma questo vale per molti apocrifi ecco perché dico che sarebbe affascinante anche approfondire il tema degli apocrifi apocrifo vuol dire nascosto celato nascosto perché qualcuno dice che i Vangeli apocrifi sono nati per motivi per più svariati motivi però uno studio attento di Vangeli apocrifi e soprattutto i più antichi i più antichi possono anzi gli studiori sono certi che riportano detti espressioni di Gesù autentiche che non sono riportate nei Vangeli canonici cioè Matteo Luca e Marco ecco perché è importante fermarsi e studiare gli apocrifi non sono delle non sono degli scherzi non sono superficiali non sono sono importantissimi sono testi fondamentali da conoscersi quindi il Mangello di Tommaso ci dice qualcosa dello stile di Gesù di quello che circolava di come hanno letto l'avventura di Gesù questo è importante l'Evangelio apocrifi Tommaso in particolare ci dice qualcosa dello stile del Nazareno e del clima che di alcune comunità che leggevano l'avventura del del Nazareno ora il Vangelo di Tommaso è uno dei Vangeli Gnostici trovati a in quel in quella giara i Vangeli Gnostici ora vorrei dire qualcosa sul su questa cosa perché io torneremo sulla Gnosi Gnosi significa semplicemente conoscenza conoscenza quindi i Vangeli fiammoci su Tommaso perché la stessa di corso potremmo farlo sul Vangelo di Filippo che ci è arrivato quasi integro e gli altri alcuni altri Vangeli che si trovano in quel in quell'anfora ecco è un Vangelo Gnostico gli studiosi abbiamo detto oggi qualcuno si schiera dice sì qualcuno dice no perché mancano degli elementi tipiche dell'agnosticismo possiamo dire che sicuramente Tommaso è un Vangelo Gnostico ma precisando che si tratta di un Agnosi da non confondersi con l'agnosticismo dualista o manicheo anche dire Agnosi non vuol dire ancora nulla c'è un mondo dietro l'Agnosi però è importante che il Vangelo sia questo Vangelo sia un Vangelo Gnostico perché ci rivela qualcosa di grandioso io non capisco perché si è passato nel cristianesimo l'idea di Gnosi come qualcosa di eretico qualcosa di negativo qualcuno quando ho pubblicato su Facebook l'avviso che ci sarebbe stata questa serata c'è stato un commento di una persona che dice eh sì però risente dell'Ognosi sì però ma cosa vuol dire sì però è mica un insulto cioè l'Agnosi cioè non possiamo pensare la grande domanda che ci si fa nel mondo scientifico ad esempio è questo il Vangelo di Giovanni il quarto Vangelo il più tardivo dei quattro è un Vangelo Gnostico per molti elementi per molti motivi scusate per molti elementi contenuti nel Vangelo è un Vangelo Gnostico lo vedremo stasera eh ci sono delle espressioni tipiche dell'Ognosticismo non dualista non manicheo ovviamente addirittura la domanda è Gesù era un Ognostico eh ecco sono tutte domande che eh richiederebbe sono sderciti dei tomi su queste cose qua e non possiamo ovviamente adesso eh afferrarle però nel Vangelo di Tommaso Gesù risulta essere un maestro o meglio il maestro che cerca ecco qui adesso entriamo eh la premessa 30 minuti di premessa però adesso entriamo nel nel mondo affascinante di Tommaso quindi nel Vangelo di Tommaso Gesù è il maestro che cerca di risvegliare i lettori cioè noi al suo stato di coscienza cioè Gesù in Tommaso vuole rivelarci il segreto capite perché apocrifo significa segreto ma non è segreto il Vangelo è segreto il contenuto cioè ci rivela il segreto dell'esistenza cioè come giungere alla salvezza cioè al compimento dell'umano questo è l'intento di Tommaso Gesù si ritiene il vivente cioè il risvegliato l'illuminato e vuole che adesso vuole che tutti conoscano il segreto per diventare illuminati svegli che tutti possano giungere al risveglio cioè la salvezza occhio ho usato volutamente la parola salvezza ecco in tutto il Vangelo di Tommaso non ricorre mai la parola se non una volta en passant la parola croce crocifisso mai la parola redenzione mai la parola espiazione mai la parola salvezza intesa come in senso paulino ecco per il Vangelo per il Vangelo di Tommaso la salvezza è una questione di conoscenza ci si salva per la conoscenza e non per la croce di Gesù su questa cosa io vorrei parlarne con voi una settimana perché per me è fondamentale spero che passi stasera questa cosa l'idea della l'idea della croce e della crocifissione della croce del sangue dell'atto espiatorio di Gesù della redenzione è nata con Paolo non è evangelica e questa cosa per Tommaso è chiarissimo tanto che non parla mai in tutte centinaia abbiamo detto centoquattordici loghi o ventuno dipende poi come è stato voi troverete i testi che si fermano centoquattordici a volte centoventuno dipende come sono stati suddivisi i loghi i detti le sentenze ma mettiamo in centoquattordici sentenze non si parla mai di croce mai di eventi del sangue di Gesù della redenzione operata con la sua morte e risurrezione questa cosa non c'è interessante ci salva la conoscenza occhio lo so che qualcuno è già lì con i denti però salvezza nel senso non di erudizione ma ci si salva cioè per Tommaso è fondamentale quel processo che Gesù ci indica per diventare per prendere coscienza della propria verità e quindi diventare pienamente umani pienamente donne pienamente uomini e quindi per portare a compimento la propria umanità questa è la salvezza per Tommaso questa è la salvezza per l'agnosi cioè scoprire il segreto per la felicità il segreto della felicità quindi Gesù ci lascia le parole che rivelano il nostro segreto profondo Tommaso ci vuole dire o meglio Gesù in Tommaso ci vuole dire chi siamo veramente qual è la nostra natura autentica Tommaso ci indica la via verso l'interiorità ma guardate queste cose le aveva già dette Gesù in Giovanni guarda caso il Vangelo più gnostico dei quattro quando Gesù dice dove sono io voglio che siate anche voi oppure lo spirito che il Padre mi ha dato io ve lo do oppure io in voi e voi in me eccetera quindi Gesù come fosse è bellissima anche questa cosa Gesù come in Tommaso risulta essere una sorta di maestro tipo quelli orientali che con formule paradossali adesso io vi farò un esempio di otto dieci logia vi farò vedere nei logia che noi prendiamo ad esempio come attraverso formule paradossali sono degli enigmi perché sono incomprensibili io adesso vi farò vedere alcuni logia sono incomprensibili non si capiscono ma ecco perché perché sono così enigmatici perché Tommaso i Vangeli gnostici i Vangeli gnostici apocri fignostici in qualche modo dicevano ma questa verità è talmente importante che non può essere data in mano a tutti bisogna fare un cammino per arrivare lì ecco perché sono una sorta di non so se conoscete i Koan Zen sono delle i Koan sono incomprensibili a un primo acchito ma intanto fatti ruminare lentamente piano piano se piano piano si entra in questa logica allora si apre un mondo e la vita viene trasformata e noi entriamo nella consapevolezza della nostra vera natura della nostra vera essenza della nostra vera matrice e in questo modo possiamo diventare donne uomini completi cioè salvi capite allora Gesù vuole risvegliarci come lui è risvegliato perché noi crediamo di essere svegli ma ci troviamo in un stato di obnubilamento e quindi di inganno noi Tommaso ci dice voi credete di vivere invece esistete solamente voi credete che la realtà sia quella che si vede comunemente ma non è la realtà quella la realtà è infinitamente oltre ascoltate le parole di Gesù perché le parole di Gesù vi svelano il segreto per entrare veramente nella realtà ecco questa è l'agnosi questo è anche un aspetto molto bello secondo me l'agnosi del Vangelo di Tommaso è doppia lucidità nei confronti della condizione umana voi troverete nei detti di Gesù in Tommaso in un unico sguardo c'è l'assurdo e la grazia il relativo e l'essenziale Tommaso ci dice che la realtà è una è uno la realtà è uno la realtà è una ecco parla molto dell'uno del tutto dice questo Tommaso ma al tempo stesso questa realtà è non duale ma opposta non duale ma opposta come l'atto del rispiro è uno ma è fatta costituito da due opposti inspirazione ed espirazione inspirazione ed espirazione quindi per Tommaso c'è un detto che dice la realtà è che siamo polvere e ritorniamo in polvere ed è vero siamo polvere e ritorneremo in polvere e dice letteralmente tutto ciò che è composto sarà un giorno decomposto è vero ma esiste anche un'altra realtà sempre in noi c'è la luce e ritorneremo ad essere luce siamo luce e ritorneremo ad essere luce è vero anche questo quindi la realtà come la moneta come una moneta è costituita sempre dal dritto e rovescio questo non è dualismo non è dualità questo è semplicemente constatare l'uno che si manifesta continuamente in contrapposizione ma questa contrapposizione è salvifica e e salvifica e salvifica allora Tommaso ci aiuta in 114 detti ci aiuta a avere a che fare con la realtà quotidiana con la realtà nella nella sua contrapposizione apparente contraddizione ed è bellissimo perché la realtà è proprio così allora adesso vorrei passare alla alla fase diciamo dei dei commenti la prima slide ve l'ho messo qui voi troverete anche su internet Stefano ha messo del materiale con dei delle traduzioni possibili io ne ho scelto una delle possibili perché abbiamo detto che la traduzione dal copto voi troverete tantissime traduzioni adesso vi ho scelto vi proietto così le slide così ce l'avete lì davanti c'è il numero del logia del logion il numero del detto della sentenza e poi sotto vedete ci sono delle citazioni dell'antico e del nuovo testamento perché Tommaso risente ovviamente di tutta la sua cultura vetero testamentaria e noi troveremo assonanze in altri testi diciamo canonici del nuovo testamento ad esempio Luca Marco Matteo e Giovanni oppure anche Paolo anche Paolo se voi leggete prendete i logia sono numerati dall'1 al 114 o al 121 però comunque tutte queste collezioni sono anticipate da un'introduzione allora ecco la prima vi leggo l'introduzione spero che fino a qui vada bene perché abbiamo abbiamo poco tempo con tanta tanta roba da dire ecco in qualche modo però adesso andiamo proprio sul testo introduzione ecco le parole del segreto Gesù il vivente le ha rivelate Didimo Giuda Tommaso le ha trascritte prima domanda come come intendere quel parole del segreto se voi leggete altre traduzioni probabilmente troverete ecco le parole apocrife nascoste ecco le parole segrete però con quanto detto fin qui forse la traduzione migliore è proprio questa ecco le parole del segreto cioè Gesù rivela qual è il segreto dell'uomo e di Dio cioè Gesù vuole dire a Didimo Giuda Tommaso che le scrive queste parole vuole dire qual è il segreto dell'essere qual è il segreto della vita abbiamo detto perché noi viviamo nell'inganno noi ci stiamo illudendo noi non vediamo la realtà per quello che è quindi i centoquattordici logia successivi intendono dirci qual è il segreto per giungere alla salvezza interessante notare che in Matteo 6 se voi prendete Matteo 6 Gesù vive in pochi in pochi versetti cioè dal versetto 1 al versetto 18 di Matteo 6 per sei volte Gesù usa la parola segreto la più adesso vi dico questa frase la conoscete benissimo quando tu preghi entra nella tua camera chiudi la porta e prega il padre tuo che è nel segreto interessante e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà il padre abita nel segreto che è presente nella nostra camera interiore allora già nell'introduzione Matteo scusate Tommaso ci sta Gesù in Tommaso ci sta dicendo che dobbiamo entrare in noi stessi e fare lì esperienza del mistero non andare fuori ma dentro di sé in interiore omine habitat veritas dice Agostino entra dentro di te e scoprirai il segreto per portarti a compimento scoprirai dentro di te c'è la verità dice Tommaso non sta fuori sta dentro ma noi siamo talmente appunto obnubilati che oppure dormienti che non ce ne accorgiamo e viviamo sempre fuori di noi interessante il termine Gesù il vivente il vivente cosa vuol dire il vivente il risvegliato il vivente rivela la verità dell'uomo ovvero quella verità che non conosciamo perché siamo dormienti questo è tipico dell'ognosticismo noi non ci accorgiamo della verità di come stanno le cose dentro e fuori di noi perché dormiamo siamo dei morti viventi Gesù per Tommaso è l'essere umano che è uscito dalla caverna platonica è un'immagine che uso è come se Gesù fosse uscito dalla caverna di Platone esce fuori e scopre qual è la realtà il risvegliato scopre la verità cioè come funziona l'essere umano come dove dove sta la verità e cosa fa l'uomo di Platone entra dentro e va a dirlo agli altri ecco Gesù ci dice qual è il segreto dell'esistenza ma quelli dentro dicono ma no non è vero quello che noi vediamo lungo le pareti scorrere quella è la verità e Gesù dice no quelle sono le ombre la realtà sta fuori capite è grandioso non possiamo pensare che Gesù conoscesse il mito di Platone però l'ognosticismo in qualche modo va su questi livelli e l'introduzione dice a chi è rivolta questa parola a chi le ha raccolte queste parole di verità queste parole segrete di Gesù sul segreto dell'uomo le raccoglie questo Didimo Giuda Tommaso è un'unica persona ma ovviamente è un nome fittizio è un nome simbolico Didimo in e greco significa gemello Tommaso in nella lingua di Gesù l'aramaico significa gemello e Giuda ovviamente non è Giuda Iscariota questo Giuda qui è il fratello di Gesù quelli di Nazare dicono riferito a Gesù non è lì forse il figlio del carpentiere sua madre non si chiama Maria i suoi fratelli non sono Giacomo Giuseppe Simone Giuda quindi Giuda è il fratello interessante cosa ci sta dicendo Tommaso cioè l'autore del Vangelo di Tommaso che se facciamo nostre le parole ricorrenti nei 114 logia diventiamo gemelli del Signore diventiamo fratelli e sorelle del vivente questo è espresso poi lo vedremo anche è chiarissimo questo quindi diventeremo cristici assomiglianti al vivente diventeremo viventi perché perché abbiamo scoperto il segreto del vivere il segreto che è dentro di noi dentro di noi e sta il segreto e Gesù vuole dirci qual è questo segreto andiamo all'Ogion 1 egli ha detto voi troverete sempre Gesù ha detto Gesù dice queste sono le parole no qui inizia così egli sottointeso Gesù ha detto colui che diverrà ermeneuta di queste parole non conoscerà più la morte ermeneuta cosa vuol dire ermeneuta da ermeneutica che cos'è l'ermeneutica l'arte di interpretare una parola è un'arte l'ermeneuta chi è è l'assetato di senso c'è un detto sufi che dice non fermarti al materiale della brocca dissetati del suo contenuto ecco l'agnosi ci dice di non fermarsi alla forma della parola ma entrare nel suo senso essere ermeneuta della parola di Gesù raccontate in questi loghi questi loghi è diventare uno con Gesù almeno per un momento noi diventiamo se noi entriamo nel contenuto se cogliamo anche soltanto per un secondo il senso di questa parola diventiamo il vivente diventiamo cristici facciamo un esempio proviamo a pensare a un pianista il grande pianista è colui che cessa di interpretare perché è diventato uno con l'ispirazione del compositore cioè il grande pianista il grande pianista che si è esercitato una vita il grande pianista smette di interpretare ma diventa semplicemente strumento attraverso cui il musicista originario passa questo è l'ermeneuta questo è colui che vive le parole di Gesù riportate in Tommaso fa per un momento almeno esperienza di essere strumento cioè diventa uno con il mistero e se facciamo questo l'ermeneuta non conoscerà più la morte bellissimo perché perché il vivente non può morire perché abbiamo toccato sperimentato per un momento la nostra vera essenza cioè essere divini per un momento abbiamo toccato la nostra vera essenza la nostra matrice che è la luce e la luce non può morire gustiamo il tutto e quindi siamo al di là di ciò che è vita ciò che è morte ciò che è carne ciò che è spirito questo vuol dire non conoscerà più la morte allora ciò che salva è la conoscenza delle parole di Gesù comprenderne il significato profondo chi fa questo è già il vivente è già il vivente possiamo dire che in qualche modo già il primo logion questo primo prima sentenza questo primo detto funge ancora da introduzione c'è il il due ma è troppo complesso ci andrei sul terzo sul logion terzo quindi la slide successiva pochino più lunga i testi di riferimento sono quelli scritti in grassetto leggiamo il testo Gesù ha detto se coloro ecco anche qui per questo vi dicevo che sono degli enigmi sono delle veramente dei koan no? sembrano i koan giapponesi Gesù ha detto se coloro che vi guidano affermano ecco il regno è nel cielo dunque gli uccelli del cielo li sono più prossimi di voi se vi dicono ecco è nel mare dunque i pesci già lo conoscono il regno è dentro di voi ed è fuori di voi quando vi conoscerete sarete conosciuti e saprete che siete i figli del padre il vivente ma se voi stessi non vi conoscete siete nel vano e siete vanità è già è un po' complesso ma cerchiamo di 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 commentarlo è il commento più lungo che farò questa sera perché è uno dei logion ovviamente più 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 importanti più diciamo è uno dei logion fondamentali anzitutto eh nel regno di Tommaso spessissimo torna la parola eh regno 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 di no anche nel Vangelo è polmo regno dei cieli regno di Dio che cos'è il regno per Tommaso per questo Vangelo per quest'apocrifo che cos'è il regno è il regno dello spirito che inzuppa tutte le nostre facoltà diciamo in altre parole cos'è che regna su di noi solitamente nel nostro quotidiano cosa regna su di noi e se una cosa regna su di noi vuol dire vuol dire che in qualche modo ne siamo asserviti siamo schiavi e cos'è che regna su di noi solitamente il nostro ego il nostro piccolo sé il mio e l'io siamo dominati siamo sotto l'egida il regno del piccolo sé dell'ego del mio del possesso è questo che ci rende schiavi morti è come se Tommaso ci stessi dicendo fatti questa domanda chi regna su di te chi fai regnare su di te di chi sei schiavo del mio e dell'io che piega a sé tutto e tutti regna su di te il passato l'inconscio l'ambiente le passioni ecco se regna tutto questo come regna tutto questo ci rende ignoranti cioè ci rende illusi pensiamo che la vita sia questa Tommaso vuole dirci o meglio Gesù in Tommaso vuole dirci occhio non è questo svegliati l'essenziale è scoprire dunque il nostro vero sé la matrice di cui siamo fatti lo spirito se vogliamo ciò che sta a fondamento e che non può mutare quindi questo logion fondamentale ci suggerisce che tutto ciò denominato qui regno non va cercato neanche dentro di sé prima abbiamo detto che bisogna entrare in sé stesso qui ci dice ma no stai attento non va cercato cioè la sostanza la matrice di cui sei fatto la tua la tua verità non va cercata né dentro di te e neanche fuori di te bellissimo mistero chiamiamolo come vogliamo non è né dentro né fuori perché ne siamo manifestazione capite cosa ci sta dicendo il testo guardate è potentissimo noi siamo al contempo coloro che speriscono lo spirito e lo spirito siamo agenti e agiti gli osservatori e gli osservati siamo al contempo conoscitori e conosciuti non c'è più un dentro non c'è più un fuori dice Tommaso perché tutto è semplicemente uno ne siamo la manifestazione e questa è la conoscenza l'agnosi che Gesù vuole condurci a cui Gesù vuole condurci attento non essere duale tu non hai lo spirito dentro di te lo spirito non è fuori di te tu sei lo spirito che si sta manifestando tu sei l'osservato e l'osservatore ora a qualcuno sarà venuto in mente un testo di Federico Faggin che so che va abbastanza di moda adesso anche nell'associazione Liberare l'uomo nell'ultimo test nell'ultimo libro di Faggin Irriducibile Faggin racconta la sua esperienza è un'esperienza mistica vi leggo questa pagina perché impressionante perché non è altro che un commento a questa sentenza di Gesù di Tommaso sentite racconta la propria la sua esperienza mistica sentì improvvisamente un'energia fortissima emergere dal petto questa energia viva era amore ma non un amore così intenso e così incredibilmente appagante che superava ogni sentimento e nozione che avevo sulla natura dell'amore si manifestava come un ampio fascio di luce bianca e scintillante viva e beatifica che sgorgava dal mio cuore con una forza incredibile poi all'improvviso quella luce esplose riempì la stanza e si espanse fino ad abbracciare l'intero universo con lo stesso bianco splendore ho capito allora senza ombra di dubbio che quella è sentite quella è la sostanza di cui è fatto tutto ciò che esiste il mio rapporto con il mondo era sempre stato quello di un osservatore che lo percepiva fuori da sé separato ero contemporaneamente l'osservatore del mondo e il mondo ero il mondo che osservava se stesso e allo stesso tempo capivo che il mondo è fatto di una sostanza che sa d'amore e che io sono quella stessa sostanza così adesso intuisco che la mia identità è come uno degli infiniti punti di vista con cui uno il tutto la totalità osserva e conosce se stesso in altre parole ciascuno di noi è un punto di vista di uno una parte di uno indivisibile da uno e in quanto tale eterna allora Tommaso vuole o meglio Gesù in Tommaso vuole portarci proprio qui fai esperienza di questo segreto tu sei tu sei l'uno non c'è l'uno non c'è il divino il mistero fuori di te tu sei al contempo te stesso il vero sé e il tutto perché il tutto si sta manifestando attraverso di te quindi il logion che abbiamo letto abbiamo qui davanti ci sta dicendo che se veniamo in contatto con il segreto allora cominceremo a percepirci come l'uno parte integrante senza dualità Agostino dirà poco dopo questo scritto chi è carnale lo è fin nelle cose dello spirito chi è spirituale lo è fin nelle cose della carne è bellissimo ogni esteriorità e interiorità ciò che è fuori di noi è dentro di noi quindi Tommaso non ci sta dicendo il regno è dentro di te altrimenti inviterebbe soltanto a uno sterile intimismo tradendo la terra ma anche non dice è fuori di te altrimenti la ricerca interiore sarebbe inutile il Vangelo ci dice non contrapporre nulla unifica tutto il discorso della moneta di prima tutto è uno ma con due versi dobbiamo vedere dentro e fuori in tutto ciò che incontriamo allora impareremo a sentire l'interiorità di tutto ciò che esiste la sua profondità tutto è sacro non esiste più il profano tutto è sacro tutto è divino comprenderemo che la materia è energia e che l'energia non è altro che materia in potenza è avanti così per lo gnostico che poi possiamo dire per il mistico è terminata la dualità fa esperienza del tutto male bene giusto sbagliato tutto è uno tutto inserito lì gli gnostici dicono la nostra ascesi è l'ordinarietà il miracolo è il pane di tutti i giorni quindi Tommaso ci sta dicendo che l'alterità quello che a noi sembra alterità le contrapposizioni le apparenti contraddizioni il bianco il nero il bene il male giusto sbagliato ci sta ci sta sono necessari altrimenti si avrà soltanto confusione l'unità non è mai data dalla confusione il regno il regno non è né in alto né in basso né a destra né a sinistra né dentro né fuori il regno è l'altezza la profondità la larghezza lo spessore il dentro il fuori l'interiorità l'esternità Paolo dice queste cose quindi l'ognostico è l'uomo intero che non esclude alcuna parte di sé questa è l'autentica conoscenza di sé conoscere se stesso gnosis auton conosci te stesso invita proprio a questo conosci te stesso e conoscerai insieme a te stesso ogni cosa compreso Dio perché tutto è incredibilmente uno conoscere se stessi è scoprirsi conosciuti scoprire la propria autentica natura ci fa partecipare della natura del tutto andiamo avanti Logio 5 Gesù ha detto riconosci quello che è davanti al tuo viso e ciò che ti è nascosto ti sarà svelato non c'è niente di ciò che è nascosto che non sarà manifestato avrete sentito qui già l'assonanza con alcuni passi del Vangelo cosa vuol dire l'agnosi dice Tommaso l'agnosi la conoscenza quella vera e aprire gli occhi a ciò che si vede senza cercare altrove riconosci quello che è davanti al tuo viso Maester Eckhart dice l'occhio col quale vedo Dio è lo stesso occhio col quale Dio mi vede l'occhio mio e l'occhio di Dio sono un occhio solo una sola visione una sola conoscenza un solo amore è quello che dicevamo prima le cose non sono nascoste sono palesi che il Logion 5 dice riconosci quello che è davanti al tuo viso riconosce vuol dire abbine una visione autentica perché quello che è davanti ai tuoi occhi dato che i tuoi occhi sono nella menzogna perché adombrati dalla pretesa dal pregiudizio dal desiderio dagli attese dall'ego dal mio tutta questa roba offusca la realtà quindi riconosci quello che è davanti al tuo viso l'Oriente l'India dice che è stato messo una sorta di velo di maia un inganno davanti ai nostri occhi e non ci fa vedere la realtà per quella che è quindi il problema dice Tommaso non è la realtà sono i nostri occhi che sono malati e deformano si ingannano noi viviamo in un continuo inganno sono i nostri occhi ad essere velati inspessiti carichi di memorie pregiudizie aspettative e tutta questa roba qui questo storico questo commento nato chissà da quanto ci deforma la realtà ecco perché la spiritualità orientale ha sempre invocato il terzo occhio o l'Occidente invoca l'occhio del cuore aveva ragione Sancte Zupery quando dice l'essenziale cioè la vera realtà la realtà vera diciamo così è invisibile agli occhi perché gli occhi sono malati ci vuole un occhio suppletivo il terzo occhio la conoscenza ci vuole la conoscenza reale per poter penetrare la realtà quindi il Logion 5 è come se ci invitasse a prendere a prenderci del tempo per far cadere dagli occhi tutto ciò che impedisce di vedere la realtà per ciò che è Dio per ciò che è te stesso per ciò che sei un autore dice non fermarti alla mimica contempla il volto c'è un Vangelo un altro Vangelo apocrifo ignostico il Vangelo di Filippo a cui ho fatto accenno prima che dice sentite che bello è impossibile che qualcuno veda la realtà immutabile e che non divenga come lei se noi riuscissimo a cogliere la realtà per quello che è diventeremo la realtà continua Filippo in questo mondo l'uomo vede il sole tuttavia non diventa sole ma tu hai qualcosa di quel luogo e sei diventato quello questo non è altro che il Tatmham Asi dell'India ciò tu sei tu hai qualcosa di quel luogo e sei ciò hai visto lo spirito e sei divenuto spirito hai visto Cristo e sei diventato Cristo hai visto il padre e sei divenuto il padre dobbiamo credere che Gesù abbia fatto questa cosa ha purificato talmente tanto i suoi occhi che sono collegati al cuore quindi ha purificato se stesso dall'ego dal mio dalle aspettative dallo storico da dei pregiudizi e può dire chi vede me vede il padre io e il padre siamo una cosa sola ciò tu sei tu sei diventato questo Logion 7 Gesù ecco questo è veramente enigmatico sentite letto così uno dice ma cosa vuol dire sta cosa Gesù ha detto beato il leone che sarà mangiato dall'uomo il leone diventerà uomo infelice l'uomo che sarà scusate ho svegliato scrivere che sarà mangiato dal leone l'uomo diverrà leone cosa vuol dire ecco vi dicevo che sono criptici sono apocrifi segreti non possono essere messi in mano a tutti ci vuole un percorso per comprenderli ecco sono questo è Logi ora bisogna sapere che nel pensiero gnostico il leone rappresenta l'ego la mente il mentale ora se noi lasciamo al mentale all'ego al mio all'io al possesso a tutta sta roba qui libera azione ci sbranerà divora la nostra vera identità divora il nostro sé autentico il Logion dice Gesù dice beato il nostro vero sé quando mangia il leone quando ingloba l'ego cioè felice compiuto salvo l'essere umano che integra l'ego nel sé perché troverà la sua pace ma infelice l'uomo al quale l'ego fa dimenticare la propria natura autentica il vero sé perché allora l'uomo diventerà leone che distruggerà tutto tutti e soprattutto se stessi Krishnamurti dice il fardello di memorie questo è l'ego il fardello di memorie noi siamo divorati dalle memoria dalla memoria risentimenti siamo divorati dalle aspettative dall'ego sottomettiamo tutto all'egida dell'ego e del mio del possesso tutta sta roba qui che fa dimenticare offusca la nostra natura autentica il nostro vero sé il divino lo spirito la matrice il divino il mistero ecco perché Gesù dice continuamente nei Vangeli e anche quelli canonici di morire al proprio sé piccolo sé a tutta questa roba Logionotto Gesù ha detto l'uomo è come un accorto pescatore che ha gettato la rete in mare quando la ritira la rete contiene una moltitudine di pesci piccoli fra questi ne trova uno bello grande lo sceglie senza esitare e getta di nuovo tutti i pesci piccoli in mare che ha orecchi per intendere intende bellissimo questo è un logio fantastico Tommaso ci sta dicendo che la nostra intelligenza è una rete ora questa rete conosce tantissime cose belle belle adesso conosciamo il modo per andare sulla luna per abbiamo fatto delle cose impressionanti arriviamo su Marte la tecnica la scienza è vero ma sono comunque cose piccole pescatore che gettate in mare la rete ritira sono soltanto moltitudini di pesci piccoli cioè la nostra intelligenza per quante cose grandiose possa compiere percepire fare saranno sempre cose piccole c'è solo una cosa grande c'è solo un pesce grande e qual è? che la nostra intelligenza vale la pena conosca e siamo sempre lì l'unico pesce grande è la nostra natura autentica la nostra matrice il nostro vero sé il divino che siamo e questa è l'unica cosa che conta e chi lo scopre chi trova questo pesce bello e grande certamente lo sceglie senza esitare è mica folle e allora può gettare via tutti gli altri pesci piccoli fantastico ma certo quale vantaggio all'uomo dice Gesù Marco 8 a che giova l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde o rovina se stesso tradotto a che giova l'uomo guadagnare il mondo con l'intelligenza scoprire possedere varcare spazi infiniti solcare spazi infinite se poi tutto questo offusca la nostra vera essenza la nostra matrice il nostro essere divini il nostro essere cristici il nostro essere autentici veri perché tutto il resto passerà morirà solo questo resterà la nostra natura autentica per cui tenere il pesce grosso e approfondire la conoscenza di sé dell'essere conservare la presenza dell'uno in mezzo al molteplice in alcuni testi voi troverete questo logion allungato da un racconto da un aneddoto diciamo da un raccontino una parabola in cui si dice che i pescatori di questa grande nave da questo grande peschereccio incappano in una grande burrasca tutto va viene distrutto tutti affondano tutti perdono i propri pesci piccoli le casse ma l'unica cosa che viene conservata è il pesce grande che quel pescatore questo saggio si era messo al collo a dire che se verrà alla fine la tempesta la burrasca della nostra vita e perdiamo tutto in realtà non perdiamo nulla perché abbiamo colto l'essenziale cioè abbiamo fatto esperienza del tutto dell'essenza della matrice che nessuno potrà toglierci perché è sempre stata e sarà per sempre non potrà morire non potrà morire logion 76 facciamo un salto il regno del padre come un mercante che possedeva un carico di merce trovò una perla il mercante era saggio vendete tutto il carico e compro la perla anche voi preoccupatevi del tesoro che non perisce di quello che resta dove il tarro non arriva e il verme non distrugge vedete di nuovo il mercante saggio vende tutto e compra la perla e la perla che cos'è la perla nell'ognosticismo è ancora una volta simbolo del sé la nostra matrice la nostra vera natura il divino imperitura la nostra essenza interessante che inira nella lingua parsi e nell'iran antico cor significa sia perla che essenza quale sarà l'unico qual è il peccato per l'agnosi qual è il peccato per Tommaso l'unico peccato è il peccato l'ignoranza se la salvezza è la conoscenza il peccato è l'ignoranza cioè ignorare la nostra vera essenza la nostra vera natura e quindi se noi perdiamo di vista la nostra la nostra natura ci inganniamo ci illudiamo e siamo sempre alla conquista alla ricerca affannosa di tutto ciò che è un tesoro tutto il carico ma il carico è destinato a perire a naufragare capite compra la perla lascia cadere tutto il resto sarebbe da da commentare ancora ma andiamo avanti il 77 bellissimo il 77 ma sono tutti belli adesso sentite Gesù ha detto io sono la luce che illumina ogni uomo io sono il tutto il tutto è uscito da me il tutto è venuto a me spaccate la legna io sono là sollevate una pietra e la mi troverete l'avete già sentita è uno dei dei loghi più famosi di Tommaso io sono il tutto in che senso io sono il tutto Gesù a un certo punto prende consapevolezza di essere uno nell'uno manifestazione del tutto abbiamo già detto prima Giovanni guarda caso due citazioni di Giovanni Vangelo con elementi gnostici chi vede me vede il padre io e il padre siamo una cosa sola come l'onda è il tutto dell'oceano come il ghiaccio è tutto dell'acqua Gesù è il tutto è manifestante del tutto quindi è il tutto io sono il tutto perché ne sono una manifestazione ma c'è un'altra interpretazione possibile voi troverete forse un'altra interpretazione è il tutto quando si manifesta in lui l'integrazione di tutte le polarità di tutti i contrari è il tutto quando incarna l'unione del divino e dell'umano del finito e dell'infinito del tempo e dell'eterno Gesù è il saggio il maestro ma è anche lo schiavo l'agnello portato al macello il discorso che abbiamo già incontrato prima Gesù è il tutto perché è l'essere umano che ha fatto unità di tutte le sue contraddizioni dei suoi opposti ha integrato tutto e integrare vuol dire non uccidere nulla di sé non sacrificare nulla di sé ma integrare Gesù è l'uomo che ha integrato in sé le polarità e diventato la pienezza quindi Gesù ci sta dicendo in questo logion di Tommaso non rinunciate a nulla tutto deve essere trasfigurato integrato anche l'assurdo anche il male la morte psicologicamente si potrebbe dire che egli è il vivente in noi quando siamo totalmente noi stessi quando non rinneghiamo nulla di noi stessi e non siamo più quell'essere diviso i cui diversi frammenti più o meno ben scelti difficilmente riescono a comporsi la seconda parte spaccate la legna io sono là sollevate una pietra là mi troverete viene data solitamente una lettura abbastanza moralistica come per dire voi fate il vostro lavoro quotidiano e io sono lì spaccate la legna io sono lì sollevate una pietra fate un lavoro pesante io sono lì e avanti così ma pare essere un'interpretazione abbastanza banale c'è qualcosa di più profondo qui si afferma che ogni cosa partecipa a suo modo nella sua misura alla vita dell'essere cioè qua si sta dicendo l'essere l'essere gli enti la pietra la legna l'albero tutto compreso l'umano si manifesta si appalesa attraverso l'uno detto in altro modo l'intelligenza creatrice la fantasia creatrice il divino il mistero fiorisce nell'albero in primavera diventa pesante nella pietra canta negli uccelli prende coscienza di sé nell'uomo questo è un detto orientale tutto è uno ovviamente tra l'altro Paolo lo dice in prima corinze 15 auspica che verrà il momento in cui Dio sia tutto in tutti Dio in tutto in tutti ovviamente questo logio non si tratta di non dice di adorare la pietra il legno l'albero ma di riconoscere la presenza del vivente in tutto ciò che esiste cioè fraternizzare con tutto perché tutto è manifesto nel divino e se io sono parte del tutto come tutto ciò che esiste è parte del tutto allora diventiamo fratelli diventiamo sorelle chi è che ha vissuto questo? San Francesco fratello sole sorella l'uno ecco l'ultimo poi finito basta facciamo un salto indietro 60 l'ho trovato sempre bello questo fantastico questo logion videro un samaritano che portava un agnello quando entrò in Giudea Gesù disse ai discepoli quest'uomo che cosa vuole fare con l'agnello? risposero ucciderlo mangiarlo e gli disse finché è vivo non lo mangerà ma soltanto se lo ucciderà farà di lui un cadavere e gli disse loro cercate posto nel riposo non divenite cadaveri se non volete essere mangiati è un logio veramente bello ci sta dicendo finché lui dice quest'agnello finché è vivo non lo si potrà mangiare quindi finché saremo vivi cioè saremo i viventi saremo gli illuminati saremo coloro che vivono il segreto hanno scoperto il segreto della vita cioè di entrare in contatto con la propria vera essenza e ne hanno consapevolezza e ne fanno esperienza allora non saremo divorati da nulla la morte non ci toccherà la morte toccherà soltanto ciò che è morto ecco perché dobbiamo cercare di essere al di là del diventare dobbiamo cercare di essere al di là del divenire l'essere l'essere è libero dal possesso dall'avere del successo dal passato dal futuro l'essere è essere cioè è l'essenza la matrice se facciamo esperienza nulla ci potrà mangiare neanche la morte e finalmente saremo liberi e troveremo riposo 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 cioè il compimento del cuore bene mi fermo spero che qualcosa sia passato e se c'è qualche osservazione qualche spero che sia nato a meno l'interesse di di approfondirlo ecco i logia li troverete tutti li trovate nel in internet è pieno secondo me meriterebbe veramente uno studio posso farti una domanda Paolo chi sei? Marina ciao Marina ciao la traduzione che tu hai usato è direi molto diversa da quella sia di quei dei fogli che ci hai dato e sia dai testi dai libri che possiamo avere e quindi anche l'interpretazione verrebbe come dire un po' un po' diversa nel senso che per esempio nell'ultima solo nell'ultima riga così pure voi cercate di un posto per riposare o potreste diventare cadaveri e venire mangiati mentre nella tua traduzione è molto più più bella insomma più più densa di significato che traduzione hai utilizzato? Allora qui io ho letto cercate posto nel riposo non divenite cadaveri se non volete essere mangiati tieni conto così anche altri anche in altri posti tieni conto che io ho usato una traduzione di un di un ortodosso che è Ives Gian Ives Leloup e questo qui questo qui è il meglio di Tommaso non non penso che sia ancora in commercio è un vecchio libro di Leloup tenete conto che secondo me così Evangeli Apocrifi secondo me è molto ben fatto questo libro che volesse studiare proprio di a cura di Marcello Craveri prefazione di Dario Fo tra l'altro fa una bellissima prefazione Dario Fo e quello è editato da Einaudi quindi per il Nuovo Testamento c'è questa traduzione di Einaudi con dei un commento critico non è un commento spirituale come ho fatto stasera perché ho aggiunto anche molto del mio stasera ecco ovviamente però ha un apparato critico molto bello su Evangeli Apocrifi questo di Einaudi la stessa cosa mentre per l'Antico Testamento perché sono anche le Apocrifi dell'Antico Testamento sono due grossi volumi dell'Utet che ho però lì si spalanca un mondo sull'Antico Testamento che è affascinante però ci porterebbe un po' via qui ci sono tutti i Vangeli Apocrifi anche soltanto quelli scomparsi perché alcuni Vangeli Apocrifi noi non li abbiamo più sono andati perduti e precisamente il Vangelo degli Ebioniti dei Nazirei e degli Ebrei sono Vangeli Apocrifi che devono aver avuto molto successo nelle prime comunità ma oggi li abbiamo perduti ma noi sappiamo che sono esistiti perché molti padri della Chiesa li hanno citati il fatto che i Vangeli Apocrifi abbiano avuto tanto sappiamo aver avuto molto successo lo possiamo derivare dal fatto che primo pensate non so pensate a quella collezione chiamata di Jacopo da Varazze che ha fatto questo cantico molto bello tra l'altro e lui si serve tantissimo degli apocrifi pensate ad esempio tantissima iconografia l'iconografia cristiana tantissima iconografia cristiana soprattutto sull'infanzia ma anche sulla vita di Gesù anche sulla vita della passione noi non l'abbiamo nei Vangeli canonici l'abbiamo nei Vangeli Apocrifi quindi vuol dire che nella storia anche nella storia dell'arte ci si è serviti molto si è letto molto dei Vangeli Apocrifi la Veronica ad esempio che asciuga il volto dove è il Vangelo Apocrifi non c'è sul Vangelo ovviamente canonico molti Vangeli Apocrifi sono arrivati a noi per il fatto ecco il fatto che non siano stati protetti dal canone quindi voi sapete che il Vangelo canonico a un certo punto quello ritenuto canonico non poteva essere soggetto a cambiamenti doveva obbedire al canone questi Vangeli che non non obbediscono al canone sono stati ritoccati rivisti tagliati anche diciamo violentati da quella chiesa ufficiale che voleva correggerli quindi è difficilissimo è impossibile oggi dire com'era originariamente il Vangelo di Tommaso ad esempio non sappiamo quindi se voi leggete gli apparati critici ad esempio di Tommaso qualcosa vi dice ad esempio vi dice che ci sono delle ipotesi che dicono che la prima parte è molto antica la seconda parte del Vangelo di Tommaso è più più recente ritoccata le volevo chiedere una cosa volevo ringraziarla perché lei ha creato attraverso la magia un'altezza di interpretazione veramente notevole mistica direi quasi e la mia domanda è questa nel Logui quello sul Regno di Dio dove dice che il Regno di Dio è dentro e fuori poi parla dell'uno quindi c'è l'uno c'è il due il dentro e il fuori e il tre qual è la relazione con la logica trinitaria di questo dualismo ecco no però io ho detto che questo è importante non non c'è un riferimento al tre e quando parla dell'uno l'uno senza il secondo cioè questa questo apparentemente contraddizione non è tanto il un dualismo perché questo tipo di gnosticismo a cui si rifà Tommaso è proprio l'abolizione del dualismo del dualismo certo quindi esiste l'uno che si manifesta cioè la moneta è una ma ha due facce ma non si può dire che è due è uno senza il secondo ma che si manifesta necessariamente nelle sue contraddizioni bianco nero pensate non so vedete qua dietro di me c'è il tau il segno del tau sì 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 l'ho visto è questo è questo gli gnostic non fanno che riprendere non volutamente penso ecco ma il tau dell'oriente cioè il cerchio è perfetto ma necessita per essere perfetto delle due parti bianco e nero in questo gioco continuo ma che non è dualismo perché il cerchio è uno ecco ma non c'era una compenetrazione tra l'orientale tra gli gnostici e l'orientale allora non c'era una specie di scambi io a me non ho trovato questa questa possibilità che gli gnostici avessero attinto all'oriente ecco sarebbe un po' un po' forzato questo va bene grazie la cosa la cosa impressionante è il fatto che qui siamo a livello mistico io questa sera ho fatto ho detto delle cose appartenenti alla mistica cioè mistica ma e quindi i grandi dettami mistici le grandi verità mistiche è incredibile come le troviamo in questo contesto diciamo semitico o nella Cina antica nel Giappone avanti così perché la mistica è un unico linguaggio è una io ho i Vangeli Apocriti quelli lì che ha citato lei di Craveri e poi c'è un altro un altro testo il 60 che lei ci ha letto in quello dei Craveri è il 65 perché mai e perché sono 121 in quello di Craveri e invece in quello che ho quello che seguivo mentre lei parlava sono 114 e l'ho detto prima voi troverete o 114 o 121 a seconda della numerazione mi viene da pensare che il testo originario non era diviso in numerazione e quindi i vari studiosi la varia la critica diciamo nel momento in cui lo si prende lo si studia lo si è suddiviso e qualcuno lo divise in uno alcuni in due quindi la numerazione cambia in questo senso qua dipende come è stato suddiviso il testo ecco quindi l'altra cosa che invece così mi pare di ricordare della critica cattolica all'ognosticismo mi sembra di ricordare per quel che ho studiato che sarebbe proprio il fatto che sarebbe per pochi cioè l'ognosticismo prevede una conoscenza che è per poche persone cioè voglio dire anche le cose che stasera si ha detto come interpretazione di quest'iloghia cioè non è da tutti non è da tutti mentre il messaggio di Gesù si è sempre voluto far passare come una cosa per tutti è una mia una reminiscenza vecchia Bakuk o è ci sta ecco ci sta però adesso se si legge gli studi sugli apocrifi non tiene più questo nel senso che adesso appunto non ho approfondito questo stasera se no veramente non ci passava più ma il fatto che pian piano la chiesa abbia immaginato alcuni testi le motivazioni sono sono veramente complesse sono sono molto complesse e tenete conto che una motivazione una delle tantissime motivazioni possibile è il fatto che questi testi gnostici soprattutto invitano a concepiscono la salvezza secondo me è importante questo concepiscono la salvezza come una salvezza da trovare in se stessi a questo punto mette in crisi la salvezza proveniente dall'esterno e la chiesa ha bisogno di una salvezza che venga dall'esterno perché si pone come mediatrice tra la salvezza esterna e tu che devi essere salvato ora se c'è un testo che ti dice che puoi salvarti per via di conoscenza e beh la chiesa perde il mestiere capite quindi questo mi sembra più diciamo credibile ecco come sì sì storicamente è più credibile ma poi in realtà è ancora più complesso però secondo me è molto interessante che Tommaso questo potente Evangelo non parli mai e non dia mai adito a pensare la salvezza come atto come come evento esterno non siamo stati salvati da un Dio ma la questione è scoprire il segreto divino che è in noi per poter portarci a fiorire questa è la salvezza io appoggio questa dunque qua ci sarebbero ancora tante tante tanti interventi nella chat ne leggo alcuni ma così in modo sommario Barry dice nella tradizione gnostica come pure in quella cattolica la carne è ampiamente svilita rispetto allo spirito non così in Tommaso dice vedi Logion 112 gradirei un commento grazie però magari non c'è il tempo Luca dice ho letto molti anni fa il libro della Pagels sui Vangeli sul Vangelo di Tommaso vorrei capire che cosa è in contrapposizione con la rivelazione della parola contenuta nei quattro Vangeli e perché è stato rifiutato ma qui forse hai già risposto Alberto dice perché i preti non parlano di questi argomenti me lo chiedo anch'io Giovanni dice il professor Pesce sostiene che il Vangelo di Tommaso non è un Vangelo gnostico contiene una serie di parabole e detti di Gesù molto vicini a quelle dei Sinotici altri vicini al Vangelo di Giovanni cosa ne pensi? Sì sì infatti lo dicevo prima se voi leggete anche qui l'introduzione di Marcello Craveri di Einaudi lui dice chiaramente che è un Vangelo gnostico adesso gli ultimi studi stanno mettendo in crisi questa verità che è sempre stata passata ecco giustamente adesso io non ho presente Pesce ma qualcuno dice ma no ad analizzare bene il Vangelo di Tommaso non ci sono quegli elementi prettamente gnostici però anche lì dire gnostico è un mondo cosa vuol dire gnostico? Gnostico è un movimento una filosofia è stato un movimento incredibile al tempo delle prime comunità cristiane qualcuno dice anche antecedente al cristianesimo quindi ecco la cosa la cosa è complessa ecco come ho detto all'inizio una sorta di gnosticismo se per ignosi lo indichiamo via della conoscenza in questo senso sì e conoscere il nostro segreto conoscere come siamo fatti questo è diciamo gnostico perché si giunge per via di conoscenza ecco e sul sulle altre domande sì veramente lì si però ecco anche lì perché è stato rifiutato non lo sappiamo e non potremmo mai saperlo come perché tanto l'hanno scoperto perdivamente no? sì perché è stato emarginato perché è stato molto usato dai padri della chiesa perché viene citato il Vangelo di Tommaso in molti padri e poi pian piano è stato emarginato ma ad esempio è stato emarginato quando ha preso diciamo ha fatto successo il canone definito dalla chiesa di Roma ad esempio perché i Vangeli Apocrifi soprattutto quelli gnostici quindi Tommaso Filippo Giuda hanno avuto hanno avuto hanno continuato avere molto successo lontano da Roma e li troviamo ad esempio li troviamo venivano usati come ad esempio nella predicazione nella predicazione dei monasteri nella predicazione in alcune comunità religiose ma come la cosa come fosse la cosa più normale capite la cosa è molto complessa quindi diciamo sono stati un po' un po' tanto ecco ostacolati da Roma e dalla chiesa madre se vogliamo no ma hanno avuto per lungo tempo successo ancora sono stati molto letti molto frequentati nei monasteri nei strati religiosi così quindi lontano da Roma però Alessandria in Egitto nel Medio Oriente quindi ciao Paolo sono Clotilde in questi detti di Gesù che ci riporta Tommaso hai parlato di salvezza e poi anche hai detto ma che cos'è la salvezza essendo che parliamo di Gesù e del suo messaggio il messaggio è di quel che hai fatto a me è come se tu l'avessi fatto all'altro cioè l'amore reciproco non serve amare il Signore serve che vi amate l'uno e gli altri allora c'è qualche detto che parla non solo di del nostro interiorità che dobbiamo conoscere e accorderci di essere l'uno ma in rapporto all'altro umano agli altri umani a noi come ci ha insegnato Gesù di amarci gli uni e gli altri sì diciamo che non è non si sofferma su questo tanto ci sono degli riferimenti all all'amore all'amore l'amore reciproco ma sempre a partire da dall'uno nel senso che come ho detto prima adesso ho saltato anche un logia perché ormai era tardi ma se diventiamo se facciamo vediamo consapevolezza che siamo uno e siamo tutti compartecipi di questo uno va da sé che il bene che tu fai parte di questo uno quindi come Francesco diceva sora acqua sora no fratello sole la luna l'acqua così l'altro diventa diventa me tu sei me in qualche modo quindi certo che lì nasce la reciprocità nasce l'amore ma non solo amando te amo Dio perché non ci non sono più tre elementi in qualche modo siamo l'uno non ho fatto la citazione di Panikar quando Panikar dice che l'essere umano è cosmo teandrico dice proprio questo cosmo teandrico tutto è uno quindi abbiamo una relazione naturale con il cosmo con Dio e con l'altro però il punto di partenza è abitare la nostra essenza svegliarci e sapere che siamo divini che siamo l'uno altrimenti siamo distratti ci illudiamo che l'esterno sia la nostra salvezza ma non è così ma il prologo del Vangelo di Giovanni in principio era il verbo il verbo era presso Dio il verbo era Dio venne ad abitare in mezzo a noi la salvezza che viene da questo Gesù da questo Dio che si fa uomo e si incarna per la nostra salvezza che è sottolineato bene nei sinotici e nel Vangelo di Giovanni quindi forse non ho capito bene la salvezza che non viene dall'esterno la salvezza viene da Dio che si è fatto uomo è venne ad abitare che vivo e vivendo in mezzo a noi ogni sbaglio è tutta la predicazione che in questo Vangelo io non vedo la predicazione è un'ora e mezza che lo diciamo sì non c'è questa visione non c'è nel Vangelo di Tommaso ma al contempo io credo che questa idea della salvezza dall'esterno ottenuteci con la morte di Gesù è una visione prettamente Paolina non è sinottica tu nei Vangeli non trovi questa idea della morte e l'esterno di Gesù come la nostra salvezza allora ce n'è ancora mi pare che emerga una religione completamente diversa dalla religione cristiana con cui hanno cercato di indottrinarci cambia tutto non c'è più bisogno di una religione Claudio e poi ci sono ringraziamenti da parte di tutti e qualcuno ancora dice tra poco non saremo più corpi ma solo spirito o in fondo non lo siamo mai stati corpi ma vabbè qui andiamo mi sembra che ci siano molti riferimenti al messaggio del George Fox fondatore del quaccherismo che ne pensi Don Paolo la Pisti Sofia è un Vangelo agnostico attendibile se vuoi puoi rispondere ti mando la cosa ognuno richiederebbe veramente però ecco il fatto che ci sono tante domande o comunque anche adesso non è che io sposi in toto vi ho presentato qualcosa di Tommaso ecco lo trovo lo trovo veramente lo trovo geniale perché è un Vangelo profondamente mistico proprio nel senso mistico nel senso del di Maester Eckhart ecco diciamo di questa veramente tutto e uno a questo punto perché è incredibile questa cosa però per chi fosse interessato ad approfondire voi troverete ormai c'è veramente la letteratura sugli apocrifi è sconfinata ecco non lasciatevi ingannare solo da un libro di che anni fa ha pubblicato un libro su su Evangeli Apocrifi io l'ho preso a scatola chiusa non sono fatto l'ordinato e in realtà ha fatto una scelta di ma non li ha commentati li ha proprio presi è un libro dove ci sono passi scelti di alcuni apocrifi ma non li commenta non li anche se c'è scritto commento studio è stata un'iniziativa editoriale un po' così ecco quindi non andate subito mancuso ecco sprecate soltanto i soldi ecco però ce ne sono tanti sì allora io veramente vi ringrazio e e chissà un domani possiamo o tornare su Tommaso perché ne ho fatti 8-9 su 114 quindi ci rimangono oppure approfondiamo più gli apocrifi o ne prendiamo un altro molto bello ecco una cosa che non ho detto la donna non esce bene da questo da questo Vangelo che ve lo dico perché beh c'è un motivo tutto questo siamo in una cultura 121 secondo ho preso questo qui di Craveri Simon Pietro disse loro ai discepoli Maria se allontani di mezzo a noi perché le donne non sono degne della vita Gesù disse ecco io la trarrò a me in modo da fare anche di lei un maschio affinché anch'essa possa diventare uno spirito vivo simile a voi maschi perché ogni donna che diventerà maschio entrerà nel regno dei cieli ma al contrario qui risente molto del contesto in cui è nato di questo quindi non possiamo pensare che Gesù abbia detto una cosa così però ha un risvolto nel Vangelo di Tommaso di Filippo ma anche nel Vangelo di Maria ecco questo meriterebbe di essere letto il Vangelo apocrifo di Maria che non è Maria la madre di Gesù è Maria Maddalena c'è proprio un Vangelo apocrifo scritto dalla Maddalena che è bellissimo dove Maria Maddalena diventa il capo degli apostoli in qualche modo la figura preeminente del collegio diciamo apostolico ed è veramente un riscatto della donna incredibile molto molto bene ecco bene allora intanto ti ringraziamo avverto tutti che sul sito abbiamo messo diciamo due testi che avevamo selezionato dove ci sono tutti questi 114 logia e anche un minimo di commento alcuni selezionati per argomento quindi voglio dire è un piccolo sussidio ma naturalmente poi avete visto che la bibliografia e le possibilità di approfondimento sono tante dunque mi pare molto bello perché mi sembra che fra l'altro è un Vangelo che è molto in linea non solo con la mistica ma anche con con una teologia aposteista in qualche misura quindi molto interessante comunque il percorso sui Vangeli Apocrifi lo abbiamo inaugurato e certamente continuerà ecco vedremo se tutto quello che potremo fare faremo altri incontri ecco sia approfondendo questo sia approfondendo gli altri sia diciamo anche di inquadramento generale grazie grazie a tutti grazie grazie grazie